Ciao raga, sono Fritellic e ecco tutta la collezione dei miei giochi. Per la switch abbiamo Ninja, Lego che me l'hanno appena regalato per il mio compleanno, FIFA 22, Mario Kart, Minecraft, Animal Crossing nuovissimo, ce l'avrò da un mese e mezzo, WCR8, Zelda, Pokemon, giochi olimpici del 2020, Mario Odyssey, poi vabbè il wrestling del 2018 e GTA 3 OG. Devo dire che sono tutte delle belle saghe, ve le consiglio. E poi però ovviamente non poteva mancare Fortnite, ovviamente. E comunque vi faccio vedere anche un'altra cosa. Usciamo da Fortnite e poi qui c'è FIFA 23 integrato, WCR9 e tanti altri giochi. Ah, poi ho anche questo che non è un gran che, neanche House Flipper, ragazzi l'ho comprato ma non è neanche in realtà. Team Simulator, devo dire che è proprio una bella saga e basta. Poi per il resto sono tutti questi i giochi che vedete e basta. E vediamo un po' tutti i software. Ne ho avuti tanti. Super Smash Bros Ultimate, ragazzi, l'ho provato ma non mi è tanto piaciuto. Quindi dovrei dire non tanto. Poi Fall Guys non è male, devo dirlo. Pokemon, devo dire che è stata una bella saga. Pokemon Diamante, molto bella. Poi vabbè ho Jerk Lab che non è tanto carino, però comunque è un bel gioco se ti piacciono un sacco le macchine. Motorashi GT che è molto carino. Ok ragazzi, ciao. Iscrivetevi e mettete like a questo video. Arriviamo a 10 like, vi prego ragazzi. Ciao! Ciao!